Un po' di paura c'è, aspettiamo notizie. La max inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti a Senna Comasco nell'area del Gaggio ha sconvolto i cittadini che all'indomani della notizia del blitz si pongono numerose domande sulla sicurezza e sulle possibili ricadute per i residenti. Conferma i timori anche il sindaco Francesca Curtale che ha raccolto le tante richieste di chiarimenti e spiegazioni soprattutto sulla salubrità ambientale, sulla qualità dell'acqua e sulla bonifica dell'area protetta. Le risposte sono che le autorità competenti effettuano periodicamente delle verifiche sulla qualità dell'acqua e dell'area. Ci sono le agenzie preposte, con le quali mi raccorderò nei prossimi tempi. Mi riservo anche di leggere un po' le conclusioni. C'è a capire che tipo di materiali sono stati effettivamente depositati, le indagini dove hanno condotto. L'area del Gaggio, infatti, come si legge nei cartelli che delimitano i campi, è protetta da vincoli ambientali. Ci sono sentieri didattici, solo pedonali, e come spiegato dal sindaco Curtale, è sempre stata molto frequentata. Un'area protetta trasformata in deposito, sulla quale, secondo le indagini, i camion con ingenti quantità di rifiuti pericolosi si sarebbero mossi indisturbati. Se ci sono dei pericoli seri che vengono messi alla luce subito, i cittadini devono sapere. Il Comune assicura massima trasparenza e spiega che, come dimostrato in passato, continuerà a collaborare con gli inquirenti. È una pratica del 2008, risale al 2008, che di tempo in tempo è stata prorogata. E a tutti gli effetti, quando ieri mattina sono stata notiziata dal luogotenente che aveva in capo le indagini del nucleo operativo di Como, alle sei e mezza del mattino, diciamo che per l'ennesima volta mi sono messa a disposizione.